Sono Stefano Stefanini, sono al Festival Lovers del 2018 perché presento un documentario destinato al web che si chiama Intersectional Views. Intersectional Views è un documentario destinato al web, sono cinque diversi video che verranno caricati online una volta alla settimana per cinque settimane diverse, che hanno come tema principale quello dell'intersezionalità. Abbiamo intervistato una trentina di persone sparse in giro per l'Europa, alcune delle quali non sono europee e a tutto abbiamo chiesto di rispondere a delle semplici domande generiche per confrontare le varie risposte. Intersectional Views secondo me è difficile da inserire in un contesto cinematografico, nel senso che è un prodotto proprio esclusivamente destinato al web. Essendo un progetto che ha la finalità di sensibilizzare l'opinione pubblica su un argomento ben preciso, mi sembrava un po' limitante lasciarlo semplicemente nei circuiti dei festival e delle proiezioni standard. Il web è oggigiorno ciò che è più facilmente dalla possibilità di diffondere le idee e di conseguenza è stato deciso di veicolare il progetto in questo modo qua. Tra l'altro è un progetto completamente indipendente, non abbiamo una casa di produzione, non abbiamo una casa di distribuzione neanche indipendente, siamo semplicemente un gruppo di cinque individui che hanno deciso di realizzare un audiovisivo e siamo riusciti a realizzarlo grazie a un crowdfunding online che è andato fortunatamente molto bene, ci ha permesso appunto di intervistare 30 persone in giro per l'Europa, alcune di loro le abbiamo raggiunte noi, altre le abbiamo fatto venire qui e di conseguenza essendo un prodotto che è stato finanziato da dei singoli individui lasciarlo solo, destinarlo semplicemente alle proiezioni nei cinema era un po' limitante perché vogliamo dare la possibilità a chiunque possa permettersi di avere una connessione internet e di poterne usufruire. L'intersezionalità per quanto sia una teoria vecchia come il cucco, in Italia se ne sente parlare pochissimo, se tu al computer scrivi intersezionalità viene sottolineato in rosso, ancora non c'è una traduzione e su Wikipedia esiste la definizione di intersezionalità in italiano da circa tre mesi. E questo è uno dei vari motivi per cui io ho deciso di iniziare questo progetto perché sarebbe interessante riuscire a espandere il discorso di intersezionalità non soltanto all'interno di chi si occupa di attivismo di un certo tipo ma anche nella vita quotidiana di ognuno di noi. Tra l'altro molti ancora non capiscono la differenza tra intersex e intersezionalità che sono due cose completamente diverse, due teorie, due parole che hanno due significati completamente diversi che possono avere ovviamente delle cose in comune ma sono proprio due parole diverse e quindi si spera che anche grazie al nostro progetto molte più persone riescano a imparare due definizioni in più. Grazie a tutti.